Io spaccierei in giacca, travatta, famigia, un cassino, sbarbato, non desterei il minimo sospetto. Chi duviderebbe di me? All'inizio era difficile trovare i clienti, però nessun poliziotto duviderebbe della mia figura. Ma poi sono queste persone che danno la brutta immagine e demonizzano il mondo degli stupefacenti. E allo stesso tempo fomentano quei buongiornisti, cinquantenni, caffè, gattini sui social, perché danno una cattiva immagine alla droga, specialmente alle droghe leggere. Perché la soluzione, diciamocelo, è una, cari amici, è la legalizzazione. Perché a me sembra strano che lo Stato ci venda cartine lunghe, filtri, grinder. Io voglio capire, se l'erba è illegale, chi cazzo è che fuma le sigarette lunghe mezzo metro, ritando il tabacco?